Oggi era la partita del tutto per tutto perché abbiamo provato a giocarsela per gran parte del primo tempo e anche del secondo per provare a prendere un posto in semifinale, però non è stato possibile. Questo per noi sicuramente è un punto di inizio, non un punto di arrivo. L'anno prossimo sicuramente ci rimboccheremo le maniche per continuare questo cammino, per crescere sempre di più. Sinceramente in queste due partite abbiamo dato tanto dal punto di vista fisico, adesso dobbiamo studiare più dal punto di vista tecnico-tattico e proveremo a essere pronti da quel punto di vista e carichi. Conosciamo sia Setia che Temalo, siamo carichi, abbiamo fatto due ottime partite, io e i miei compagni si siamo allenati bene, siamo carichi, siamo preparati, vogliamo fare bene, vogliamo che Torri possa tornare ad essere nella massima serie. un grosso in bocca al lupo a noi, complimenti a Tinoce che ha fatto un'ottima partita e speriamo di dare tutto verso la fine.